buongiorno da mister bau e da bellino ciao buongiorno buongiorno è l'uno maggio l'uno maggio e che succede l'uno maggio è la festa dei lavoratori perché un anno fa tantissimi anni fa non so quanti anni fa e hanno ridotto le ore di lavoro a questi poveri lavoratori ma veramente perché dobbiamo lavorare non lo so ma che ne so forse per comprare le televisioni ma no ma che ne so sì veramente non lo so neanche io si lavora ma poi non si hanno i soldi non lo capisco bene forse c'è qualcosa da cambiare in questa società eh sì anche tu papà tu non lavori no? beh non lavoro lavoro quando gli altri lavorano ma che ne so io io sono artista anche io sono artista ma io sono mister bau ancora sono piccolo ma vorrei anche io essere artista e non lavorare e fare tanti soldi uguali eh sì allora prendetemi consigli dagli un po' di consigli bellino ok ti do dei consigli allora come ti stavo dicendo buon primo di maggio buon primo di maggio buon primo amore buon primo amore